È appena uscita questa informazione e ha agitato i tifosi del Milan che nessuno si aspettava. L'ex astro dell'As Roma è ansioso di tornare in serie a quest'estate e l'acquistare Milan è una delle due squadre, che potrebbero renderlo possibile, secondo quanto riportato. Potrebbe arrivare da un momento all'altro al Milan e se diventasse titolare, i tifosi impazzirebbero. Come riportato dal Corriere della Sera, via Radio Rossonera, Zaniolo si trova attualmente al Galatasaray, in Turchia, da soli sei mesi, ma crede di poter tornare e dimostrare le sue abilità. Era molto vicino a unirsi al Milan a gennaio, ma il club non è stato in grado di mettere a disposizione le risorse necessarie, quindi ha scelto il Galatasaray. Pertanto, il Milan rimane una delle opzioni potenzialmente disponibili per lui, mentre la Juventus è anche una possibile destinazione per il giovane italiano. Zaniolo ha lasciato la Roma in un clima di tensione, dopo presunti dissidi con il club, nonostante la sua lunga permanenza lì. Non sarà un affare facile, perché Zaniolo ha una clausola di rescissione per club stranieri fissata a 30 milioni di euro. Ora dimmi, sei d'accordo che il Milan accetti di pagare 30 milioni di euro per Zaniolo? Lascia la tua opinione nei commenti, iscriviti al canale, guarda gli altri video e resta sintonizzato, perché a ogni momento porteremo notizie sul Milan.